salve a tutti sono qui per commentare il risultato di sanità una fiorentina che come sapete terminata per 2 a 1 e allo stadio a rechi di salerno purtroppo per i colori viola le cose sono andate ben diversamente da come speravamo anche se tutti sapevamo e la sanità ne va da ben due vittorie consecutive stava esprimendo un grande gioco e soprattutto un grande impegno quest'impegno infatti si è visto fin dai primi minuti della partita in cui la fiorentina apparsa molto timida un po impreparata a reagire alle azioni della sarnitana che infatti ha avuto subito due tre palle interessanti fino al gol di judic molto bello anticipando di testa il difensore avversario poi la partita è stata più piuttosto equilibrata si arriva al secondo tempo i cambi di italiano sembrano rivitalizzate il gioco della della fiorentina e cioè infatti porta anche al pareggio con un gran col un grande stop è un gran gol di saponara che secondo me infatti è che tra i migliori in campo della fiorentina a parte il gol lui ha giocato bene si è fatto vedere ha tenuto delle buone posizioni in campo secondo me a parte che appunto è uno dei migliori campo poi alla fiorentina ha continuato a giocare bene e proprio mentre forse la sanità sembrava un po in defiolta è arrivato purtroppo questo sbagliare di igor che appunto ha lasciato un po quella palla molle in aria dove passa dal portiere invece di spazza di spazzarla via come andrebbe fatto in quelle situazioni peccato perché igoro stava girando secondo me è una descritta partita un po a tutto campo e peccato con quelle e dove purtroppo la sua prestazione non può essere definita sufficiente perché appunto ha compromesso in pratica un po tutto dall'in poi la squadra si ci ha creduto fino alla alla fine ma dopo quel gol dei buonazzoli tutto è sembrato molto più difficile c'è stato forse un po di nervosismo anche ci sono state delle azioni di attacco interessanti però ora a caldo ora perché la partita appunto è finita da pochi minuti esso accaduto però non ricordo proprio delle azioni pericolosissime della della fiorentina anche se negli ultimi minuti specie nel recupero ha tentato un arrembaggio finale un attacco finale ma purtroppo non c'è stato niente da fare quindi io credo che per noi tifosi della fiorentina non resti altro che fare i complimenti a questa serenitana che ha dimostrato di credere in questa vittoria in questa impresa perché appunto è stata fatta contro una squadra come la fiorentina che stava giocando molto bene nelle ultime partite quindi quella della sanità è un'impresa sportiva che merita ammirazione e rispetto perché avendo finito le ultime tre partite poi loro devono anche recuperare due partite e quindi ritornano in piena lotta per la salvezza e per noi della fiorentina invece questo è un vero passo falso anche se la roma ha perso beh comunque la partita con l'inter era molto dura la roma ha perso comunque ancora possiamo sperare interessante il fondamentale sarà vedere che cosa fa oggi anche la lazio e comunque io credo la lotta con le due romane finirà proprio all'ultima giornata io io penso e anche l'atlanta con la vittoria si è rilanciata secondo me con quel 3 a 1 col venezia e si rilancia anche lei per un posto almeno in conferenza big che si va va bene estrema a vedere come finirà questo campionato che comunque è molto avvincente un calo saluto a tutto a tutti se volete fatemi pure le domande sulla serie a la serie b calcio lo sport in generale un calo saluto a tutti buona domenica a tutti buona serata